un attimo votazione per cesare è in vantaggio cesare ora durata volete ancora un po di vitamina l'importante è andare oltre con il tempo non importa la potenza importa la continuità non fare lo stai parlando di rutti sono due stronzi che ruttano sul palco gli altri due li conducono pronti? curata attenzione 3 2 1 vai bello che cazzo hai mangiato? gli do un attimo vuole un attimo vuoi andare all'angolo? vinci 4 1 non penso a questo punto però c'è una giuria popolare attenzione un applauso per cesare votate per capellone è il momento? è il momento ci serve una coppia ragazzi fidanzata e fidanzata dai non vi facciamo male giuro grazie